faccio vedere questo nuovo video che praticamente l'altro giorno quando stavo a casa ho visto questo tipo di uccello che fa lo stesso richiamo del gatto il mia coliglio del gatto e questo esemplare si chiama la chiandaia ed è un esemplare praticamente che vive che si sposta in gruppi oppure da solo però una maggior parte si sposta in gruppi e praticamente stavo in camera mia e sentivo miagulare pensavo che era il mio gatto che era milly e invece vedo questo uccello qui che vi faccio vedere adesso il video che praticamente c'è il mio gatto giù che vede questo uccello e questa chiandaia fa il richiamo del gatto praticamente come potete sentire fa un richiamo molto particolare e il tempo impiegato per la ricerca del cibo niente praticamente ragazzi si muovono indifferente fra i vari strati delle aree boschive passando il suolo il tempo impiegato per la ricerca del cibo fra i cespugli e il sottobosco i periodi di riposo di riservazione degli intorni e fra i rami degli alberi i momenti fuga da preparatori e le ore notturne però qua non era un orario notturno ma erano le sette del pomeriggio praticamente ed era sul mio pozzo quindi non si vedono le ore notturne comunque non dirato le ghiandaie possono essere osservato e mentre si fanno pulire il piumaggio dalle formiche rosse mediante la tecnica del bagno di formiche il richiamo della ghiandaia inconfondibile aspro e stridente viene messo molto frequentemente può essere udito soprattutto durante i mesi caldi e infatti questo è il periodo di luglio e l'abbiamo sentito l'ho sentito questo richiamo la ghiandaia in grado inoltre di imitare i suoni percepiti nell'ambiente circostante a ecco vedi quindi visto che magari aveva sentito il mio gatto miagolare la ghiandaia ha fatto ha emesso lo stesso miagolio del mio gatto ha imitato il miagolio del mio gatto dal canto degli uccelli comprese richiami del proprio potenziale predatori fra cui l'allocco alla voce umana però in questo caso ha fatto il verso del mio gatto il quindi miagolio comunque ragazzi questo è uno strano uccello molto molto raro comunque da vedere e niente mettete vi piace commentare si iscrivetevi al canale noi come sempre ci vediamo un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti